. Nuovi crop circle compaiono nei campi di Summerslane, vicino Broadinton, Viteshire. Due nuovi e complessi crop circle hanno fatto la loro comparsa nei campi di frumento a Summerslane vicino la cittadina di Broadinton nel Viteshire . I due pittogrammi sono stati segnalati il 28 maggio e si trovano in due campi separati di Summerslane. Il primo pittogramma è composto da sei cerchi concentrici che vanno a completare una formazione, che sembra essere il simbolo del fiore della vita. . Alcuni ricercatori ipotizzano che questo crop circle possa rappresentare anche la futura eclisse di sole del 21 agosto 2017. . . A poca distanza da questo primo pittogramma del diametro di circa 40-50 metri, è evidente unaltra impronta di un piccolo cerchio del diametro di 10 metri . 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